Delta S4, un vero laboratorio tecnologico, un mix di innovazioni e raffinata meccanica. Prima lancia a trazione integrale, prima auto al mondo ad adottare un sistema combinato di sovralimentazione. E i risultati? Eccoli! 1985, rally d'Inghilterra. 1986, rally di Monte Carlo. Vince il titolo italiano ed europeo. Vince nella sua storia più di 15 rally. Grazie per la visione!